salve amiche e amici oggi un po di notizie simpatiche e altre meno simpatiche fra il serio e il faceto un po di ironia e comunque vi porto anche alcuni aggiornamenti che arrivano dal fronte ci sono anche novità per equipaggiamenti per l'ucraina le dichiarazioni di alcuni personaggi e questo è quanto quindi mettetevi comodi come sempre prima di iniziare se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale qui sotto al video trovate i pulsantini per iscrivervi lasciare un mi piace sono due piccoli gesti gratuiti che mi aiutano tantissimo nella indicizzazione e nel crescere come canale allora partiamo subito con putin che appunto due giorni fa se ne è uscito con una frase delle più belle del tipo che l'europa e la russia dovrebbero ritornare a fidarsi reciprocamente insomma frasi che fanno ridere e tutto questo ricordiamoci quello che è successo in questi mille giorni di conflitto perché il marzo 2022 se ne usciva dicendo che avrebbe preso l'ucraina in tre giorni nel 2023 disse che poteva prendere kiev in 15 giorni ad agosto 2024 disse che avrebbe riconquistato la regione di kursk in un mese e sono passati mille giorni 700 mila soldati spariti trasformati in concime per leggere questo articolo arriva la corea del nord e i coreani in aiuto della russia e poi altri personaggi che vanno in giro la notte per non dire altro a quanto pare c'è stata una telefonata fra donald trump e putin in cui gentilmente donald ha chiesto a putin è però non dovresti esagerare gli ha detto evitiamo questa escalation la risposta di putin è stata appunto l'ennesimo attacco dronico di decine e decine di droni shahed ai danni dell'ucraina 13 tu 95 bombardieri che fra l'altro sono anche nucleari volendo in volo 6 tu 22 e 4 mig 31 insomma c'è andato leggero come risposta per evitare l'escalation oltre a questo si segnala la presenza di 50.000 truppe nella regione di kursk insieme ai soldati nord coreani qui non si tratta di volontari è perché qualcuno mi ha fatto notare e ma ci sono anche truppe europee in ucraina sì ma quelli sono volontari sono piccoli gruppetti di gente che ha deciso di partire per i fatti suoi non supportata dal proprio governo mentre la coreana del nord ha appunto letteralmente dichiarato guerra all'ucraina mandando i suoi apertamente apertamente per modo di dire chiaramente però ci sono sono stati arrulati e mandati nel carnaio passiamo a notizie un po più leggere cappellini cappellini di carta stagnola come se piovessero questa è una storia che vi ho già riportato ed è una storia bellissima ve la leggo perché l'articolo è queste belle signore sono insegnanti di scuola ed è una storia incredibile che mostra davvero cos'è la russia odierna e perché è così un burlone bielorusso ha inviato lettere inventate alle scuole pubbliche russe nella regione di yoronez per conto del partito al potere quindi russia unita dicendo alle insegnanti che dovevano realizzare cappellini di carta stagnola come parte di un esperimento patriottico intitolato l'elmo della patria geniale senza fare domande le insegnanti soprattutto per questo ordine che era palesemente assurdo e umiliante da parte di qualcuno che non aveva neanche voglio dire l'autorità legale per fare una cosa del genere le insegnanti insomma di sette scuole pubbliche hanno obbedito e hanno indossato questi cappellini meravigliosi di una fattura di quelle proprio belle e si sono scattate delle foto per riferire così all'organismo regionale del partito al potere ora insomma quando si è saputo che poi si trattava di uno scherzo comunque il ministero dell'istruzione russo ha applaudito pubblicamente le insegnanti di yoronez per il loro spirito patriottico eh che dite ma comunque devo essere onesto non sono hanno fatto anche questa bellissima fattura appunta ma anche questa come vedete ci sono diverse scuole che hanno interpretato a modo loro lo spirito patriottico è bellissimo perché appunto inconsapevolmente si sono sacrificate per i meme di tutto il web insomma saranno ricordate per sempre per questo spirito patriottico e fra l'altro hanno ispirato anche meme come questi che voglio dire no sono superbi devo essere onesto sono meravigliosi comunque ecco forse le insegnanti russe e qualche filo russo uno strano convinto può cascare in queste in questi scherzi ma le nonne russe l'abbiamo visto già in passato c'è un altro video che avevo realizzato proprio ad agosto dove c'erano le nonnine russe che si ricordavano di quello che avevano passato durante la seconda guerra mondiale infatti questa signora ce lo dice con il suo bellissimo cartello che dice ho 91 anni sono sopravvissuta a stalin sono sopravvissuta al baffetto tedesco della seconda guerra mondiale e sopravviverò anche a putler vergogna alla russia che dire penso che si commenti da solo passiamo alla magnifica superba strepitosa e sempre densa di verità televisione russa in particolare il canale 1 ok quindi la televisione proprio nazionale con questa donna che definire diabolica è veramente non so è veramente poco e penso che sia veramente quanto di più maligno e ambiguo possa esistere sulla faccia della terra perché vi mostro questo fermo immagine beh il video ve lo passo in descrizione di sicuro non posso mostrarvelo qui su youtube però ecco ve lo racconto e per oltre un minuto di trasmissione pubblica quindi l'equivalente direi uno in russia questi due soggetti sono stati capaci di mandare in onda solo immagini di melania trump in ligerie o completamente nuda già lo hanno fatto sì questo non so forse un tentativo di screditare trump come se voglio dire ce ne fosse bisogno però ecco non penso che il futuro presidente degli stati uniti la prenderà bene e soprattutto questa cosa ci dimostra la grande simpatia che i russi hanno per questo personaggio chi lo sa vedremo è interessante comunque voglio dire come uno direbbe da qual pulpito visto che comunque putin è sposato con una ragazzina che insomma melania trump a confronto è una donna piuttosto navigata con gli anni quindi chissà se qualcuno farà lo stesso negli stati uniti vedremo restiamo sempre sul tema dell'ironia e della simpatia per questo personaggio italiano che ha chiesto la cittadinanza russa quindi spero che gliela daranno però che appunto la cittadinanza russa escluda quella italiana al più presto perché insomma penso che ci siano molte persone che merito meritino molto di più la cittadinanza italiana di lui oggi in ogni caso il post come vedete si commenta da solo non entro neanche nel merito oggi l'anniversario della liberazione di cherson che insomma per otto mesi è stata in mano ai russi la gente era esplosa di gioia quel giorno veramente questi video raccontano questa storia ve li passo in descrizione questo per esempio è uno di quei momenti che passerà alla storia con la nonnina che piange di gioia per stringere proprio nipotino che era andato in battaglia insomma queste immagini le abbiamo viste solo quasi un secolo fa bisogna ricordarlo quando alcune città europee venivano liberate bellissimo questo intervento di questo signore che dice non ho acqua quel giorno diceva non abbiamo acqua non abbiamo riscaldamento non abbiamo elettricità non c'è internet ma cavolo siamo liberi dai russi e la libertà è tutto siamo euforici di gioia per parlare sempre di civili alcuni parliamo di circa 120 rifugiati presso dalla città di sugia hanno chiesto aiuto a kursk in cui si sono lamentate del fatto che i generali russi non stanno riuscendo a combinare nulla nella regione e hanno chiesto un incontro con il governatore che avrà domani vedremo quali saranno gli sviluppi passiamo alle notizie dal fronte arrivano intanto notizie di incursioni droniche ucraine presso la città di saratov in russia questa mattina saratov vi ho già riportato questo centro perché è sede di due aeroporti che hanno una valenza strategica il primo è anche un museo dell'aria fra l'altro per grandi bombardieri russi e ho il sospetto che venga utilizzato per pezzi di ricambio cannibalizzazione e che insomma i bombardieri russi facciano la spola qui su quest'aeroporto per subire le eventuali revisioni e aggiornamenti non so non so se è stato colpito questo aeroporto o per esempio quest'altro che è invece un eliporto dove è sede di un grande deposito di vecchi mi 8 e mi 24 elicotteri sia da trasporto che da attacco quindi vedremo nei prossimi giorni se arriveranno informazioni più dettagliate un'altra incursione delle forze speciali ucraine ha avuto luogo presso l'aeroporto clean 5 nella regione di mosca ora questa è una notizia interessante perché stiamo parlando di qui vicinissimo a mosca nell'ordine di 30 chilometri vedete cioè stiamo parlando di un eliporto che è sede di tantissimi elicotteri d'attacco si intravedono le sagome di mi 24 k 50 k 52 questo per esempio è un k 50 o k 52 sono appunto tutti schierati qui più grossi elicotteri da trasporto insomma il fatto che forze speciali ucraine siano riuscite a mandare in fumo uno di questi elicotteri è davvero una notizia strepitosa passiamo poi a per quanto riguarda le notizie che arrivano dal fronte questo video vi riporta a zaporizia dove delle forze ucraine sono riuscite a neutralizzare un'intera colonna di paracadutisti in movimento di truppe aviotrasportate russe in in quest'area dove stiamo zaporizia qui qui si parla di un airstrike e l'utilizzo di droni altre azioni ucraine poi arrivano da tutta quest'area a sud est dove i russi continuano a ripeterlo stanno prendendo posizioni ogni giorno che passa si parla di piccole conquiste ma inesorabili l'ultimo aggiornamento proprio questa mattina allora qui arrivano anche altri video in questa sequenza che vi passo in descrizione c'è un carro ucraino che avanza presso il la zona di se sonziska qui ed è esattamente questo video qui questo è successo il 9 con questo mezzo che avanza lungo la strada e colpisce le posizioni russe quindi questa è l'ultima propagine l'ultima estensione delle dell'avanzamento russo e qui stanno combattendo anche qui vedete questo segnalino blu si parla di un'area di demolizione da parte ucraina qui tank shells stiamo parlando di utilizzo di artiglieria con i carri armati artiglieria attacchi dronici insomma qui ci sono dei mezzi in fiamme insomma la situazione è questa non è necessariamente scontata ecco questo volevo dire così per esempio presso se li dove che è caduta dieci giorni fa almeno dieci giorni fa i russi hanno completamente occupato quest'area come vedete c'è stato un contrattacco ucraino proprio in quest'area viene riportato anche in questo post poi arrivano anche altre immagini sempre dall'area di pokrovsk vedete questo fermo immagine vi passo anche il video di iscrizione ecco vedete questo laghetto l'incrocio e la strada che ripiega in questo modo bene questa quest'area e questo video fa riferimento a questo video qui esattamente questo laghetto questo incrocio e questa strada che ripiega qui c'è stato un attacco dronico ucraino che ha neutralizzato una un gruppo di soldati russi che si erano arroccati in quest'area quindi anche qui vedete la situazione è molto dinamica altre parte del fronti del fronte scusate oggi con i plurali sono messo male il numero di distruzione dei mezzi russi rende l'idea di quanto sono intensi i combattimenti nell'area di toresk tutto questo è successo giorno 9 questa è tutta opera di demolizione da parte ucraina così come potete vedere anche gli ucraini hanno perso alcuni mezzi in centro a toresk la loro risposta poi è stata questo che hanno fatto una estrazione di alcuni soldati nel frattempo colpiscono con artiglieria attacchi dronici anche nell'area di chiasi viar ci sono immagini e video che arrivano di combattimenti truppe in contatto insomma tutto il fronte piuttosto almeno sud est piuttosto denso come potete vedere di rapporti mentre altrove non si segnalano segnalano cambiamenti se non una leggera espansione nell'area della foresta presso zuralevka da parte ucraina altre attività siccome vi ho riportato i 50 mila uomini schierati nella regione di kursk beh immaginate che tutte queste icone sono state appena state posizionate da maya kosk sono tuttano tutte riferimento al 7 lotto il 9 questi sono tutti mezzi russi distrutti ognuno dei quali trasportava uomini sembra che stiano spingendo tantissimo per cercare di scacciare gli ucraini dall'area ma non è non è un'opera facile assolutamente quindi questi sono gli aggiornamenti per quanto riguarda il fronte poi arrivano anche altri video per esempio questo video proprio fresco del solito pilota pazzo ucraino a bordo del mi24 che ci mostra all'interno ora questo elicottero lo conosco bene perché ce l'ho anche nel simulatore che è lo stesso la stessa serie fra l'altro identica qui a sinistra vediamo il pannellino che gestisce le eventuali armi aria aria perché il mi24 può trasportare anche due missile aria aria volendo in questo caso i selettori sono tutti giù perché non gli servono in genere utilizzano il cannoncino per abbattere droni poi va bene il il cockpit è quello classico della serie p qui lo schermetto in realtà trasmette informazioni in base al navigatore inerziale con una mappa rappresentata o dati di volo per il resto è tutto un abitacolo analogico niente di che nel senso non è moderno è un elicottero degli anni 70 qui vediamo il supportino per la gopro questo è il selettorino per le armi che sta utilizzando questo invece che vedete si vede meglio nel video in movimento è un ventilatore l'omnipresente ventilatore di alcuni elicotteri e bombardieri russi è particolare il mi24 perché oltre alla linea sua caratteristica è anche un elicottero pressurizzato l'abitacolo è pressurizzato perché può sopravvivere a un attacco diciamo nucleare nel senso in questo modo evita che fumi tossici o radiazioni necessarie entrano entrino nell'abitacolo questo è un mis è un kalasnikovs o quello che è un fucile d'assalto nel caso di atterraggio forzato una notizia per chiudere per quanto riguarda le forniture francesi questa è un'immagine di un rafale lo so qualcuno mi ha chiesto un video dedicato al rafale francese ci sto lavorando non vi preoccupate arriverà però la notizia che vi riporto oggi è sulla fornitura dei missili da crociera scalp da parte della francia all'ucraina in questa immagine ne vediamo due montati sotto le ali a delta del rafale oltre a tre taniche e quattro missili matra 530 e missile scalp è un missile da crociera che è molto interessante e le forze ucraine ne hanno un estremo bisogno stiamo parlando di un oggetto un'arma che può distruggere centri di comando sotterranei infrastrutture aeroportuali porti scusate ponti ecco ponti depositi di munizioni navi e sottomarini attraccati a un sistema di guida inerziale quindi autonomo affiancato anche da un sistema di guida gps e in più è in grado con il ter prom di seguire ed evadere il terreno evadere ostacoli presenti sul terreno quindi è in grado di per esempio evitare un palazzo una montagna e di restare molto basso in questo modo ha un profilo stealth cioè molto difficile da rilevare ha un motore jet che lo spinge stiamo parlando di un turbo jet turbo meca che lo spinge fino a circa 1000 chilometri orari e ha un'autonomia di qualcosa come 560 chilometri quindi è un ottimo missile per quello che può farci l'ucraina i vettori che possono lanciarlo sono per esempio il tornado gr4 il tornado ids l'euro fighter il mirage 2000 il caffal e in questo caso si è aggiunta anche la famiglia di sukhoi su 24 ucraini che vediamo proprio in questa immagine quindi è un ottimo è un'ottima fornitura agli ucraini che è appunto dalla francia non penso che riceveranno restrizioni e potranno utilizzarlo come vorranno soprattutto perché consideriamo che i droni che stanno utilizzando adesso non sono progettati per distruggere un bunker o un ponte strutture rinforzate fanno pochi danni mentre un oggetto di questo tipo è progettato proprio per questo scopo quindi ottima ottima notizia e con questo è tutto per oggi come sempre fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti è un abbraccio alla prossima